Sicuramente quando si perde tutti gli altri che pensano al contrario hanno ragione. C'è chiaro che quando perdono tutti quelli che pensano che i suoi scopi sono dei mali, hanno ragione. Ma non abbiamo contro conferme. Sicuramente non è un caso o non è ragione perché abbiamo perso. Ma non possiamo dare con questo una risposta perché non possiamo raggiungere il match con altri giocatori. E soprattutto ora la risposta non è arrivata perché non possiamo parlare.